Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Fortnite perché... Boh Intanto vi volevo parlare mentre giocavamo della situazione sconvolgente su Fortnite Perché a quanto pare da tipo questa stagione sono stati... Cioè Fortnite è diventato troppo toxic perché sono tutti quei kid Avete presente quei kid? Ecco Ecco, cioè... Sono una cosa incredibile Ti hanno provato a sneakerare Da che parte mi manco io... Penso che sia da dietro Oppure Marco Comunque vi dicevo Questa cosa, cioè... Questa cosa ha reso Fortnite quello che è oggi Un gioco abbastanza noioso e toxico Per esempio... Aspetta... Un airdrop Eh ma la safe diciamo che è leggermente tipo in Corea Vabbè al massimo pigliamo un po' di mazza ma non altro Guardi... Ma perché sono sempre là le guardie di Oi? Guardia di Oi! Sniperata una Ma io ce l'ho già il pack blue Rambo Perfetto Molla Ok Scudo, scudo, scudo Amministra le tanto scudo Comunque raga voi che cosa ne pensate del nuovo pompa? Scrivete qua sotto nei commenti perché sono curioso Per me è bello però è leggermente OP Perché... Guardate... Ricarica come Sonic Che c'è? A me servirebbe lo scudo Però lo do a Marco perché ha meno scudo di me No C'è cosa succede? Si rompe? Come un lama Questa è la giornata delle spezie Più o meno Si ma io... A me servirebbero colpi C Colpi AR Perché non è che ne abbia tipo tutta sta gran cifra eh AR Marco vieni in attimo Marco vieni in attimo Che qua c'è una cura bomba Vieni qua Che ti curo Ve lo... E vabbè ti lascio senza Vabbè se non vuoi lo scudo ti lascio senza eh Raga Raga arriva la safe e siamo Ma qua combattono Ma qua combattono Vabbè Come al solito Vi invito a di lasciare un mi piace Barra non mi piace Iscrivervi al canale Perché Fortnite è morto Però dovete essere attenti Perché ci sono ovviamente Sti Fortnite kid Che trajardano come niente E quindi Niente Resta 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 Good Niam 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 Il jetpack Il jetpack del Mandalorian No Avevano granate a onda d'urto Questi Vabbè raga Io ho Io ho tre medikit Perché? Che c'è? Ma no così Ma noi non abbiamo nulla Ho paura a fidarmi Ma così Hai rallentato solamente La safe è tipo 3000 quarti Wow Wow Raga Wow Raga Eh Mamma mia Cos'è La giornata delle spezie Vabbè raga Oddio Mi devo curare Raga Sapete che Tipi cosa Guardia di oi Ti serve medkit? Perché io ne ho un po' Allora Resisti più che puoi Occhio Atento Ti hanno ucciso Però Aia Eh vabbè Ma questo qua si chiama Trajard Guardate Guardate Ma sei scemo E mora Ti hanno scoperto Perfetto Grazie Bravo Sei un genio Proprio Sei proprio un genio Vedete raga Vedete raga Raga Osservate Questo è quello che chiamiamo Nerdare E soprattutto Fare cavolate Guardate qua C'è anche la safe Oh No Non riesco a tagliare Ma come faccio a tagliare da telecamera La scusa Cioè perché io sono storico Io stiamo con Vedete raga Questo è Si chiama Nerding Raga Questo si chiama Nerding Fortnite è diventato Ingiocabile Vedete Questo è il problema Questo pompa anche se ho P Non serve a niente Guardate Vedete Fortnite come adesso Non Ok. aspettate un attimo raga in che senso ti senti male un orni io vado a corso si io ho già trovato un'arma l'ho già addocchiata no in realtà io non sono a corso raga ho timato oddio ho timato aia grazie mi ha curato no raga meno male che ho timato mentre recco wow incredibile raga venite da me venite da me che ci sono oddio guarda hai il robot no perchè hai messo perchè hai messo a farlo copirettato aiuto no raga che figata il problema è che sono solamente in due non in tre come tutti ah guarda eccola la termodinamica eccola qua raga è incredibile a me non mi va di ucciderli sono nostri amici più o meno a meno che tipo ora non ci ammazzano malissimo no aiuto no aspetta dove 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 è l'amico dove è l'amico eh si era la termo mostra segni di amicizia altrimenti il mandalore non ti potrebbe picconare e quindi pensare che tu sia un nemico eccola no vabbè raga abbiamo timato raga no stavolta però devo cambiare titolo finalmente fornit è diventato qualcosa di nono g cioè finalmente fornit è diventato qualcosa è diventato oh no oi boom grande aspetta come si chiamano sti tizi come si chiamano sti tizi che li vuoi no 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 anche se sono stranieri io gli richiedo la mia amicizia davvero ahia no è il mandalorian che per sbaglio mi ha tirato al fuoco ahia pesce termico wow ma è la prima volta che lo vedo ma è la prima volta che io timmo con gente oggi in questa season raga raga io vedo che il punto zero è sempre meno circolare ho paura che esploda allora vediamo un po' non so non so no meno male a meno che non sia l'amico di pirotecnica e del e e e del mandalorian oddio oddio meno male che ho recato meno male che ho recato mi sa che si sono persi oddio meno male che ho recato no fammi provare il pesce punto zero non l'ho ancora provato grazie oddio cos'è dov'è 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 va bene no no io poi gli richiedo l'amicizia ma è il tizio aia mi spada dietro aia no è che il mandalorian mi ha sparato per sbaglio perché non si ricordava no pirotecnica non gli sparare marco altrimenti pensano che grazie perché li inchillati no ora non possiamo più chiedergli l'amiciziaia ma sono morti gg sad che sad dannati nemici un giorno mi verrò a cercare raga adesso scrivete hashtag giustizia nei commenti hashtag giustizia eh meno male ah vero questi magari sono italiani secondo me sono ing secondo me però sono un po' oh non sono secondo me inglesi perché nemico eliminato aiuto mi sparano raga mi sparano mi sparano mi sparano ah mi sparano altre tre persone diet altre tre persone davanti a voi altre tre persone davanti a voi ecco grandi ahia mi hanno snaiferato di nuovo proteggetemi vi prego no scappo scappo ma non l'ho ancora finito il video zio scappo scappo scappa ho un pezzo di pane fan che sono già qua sono solo quello che mi servirà giù è tutto giustizia giustizia ce lo riguardiamo in replay bro oh una moneta blu scappa ho un pezzo di pane dove ma era da anni che non ne vedevo una ah non lo so io ma è da anni che non la vedevo tipo un casino di stagioni io non la posso neanche sparare già scusatemi se non mi sono riuscito a restare ma era una situazione veramente drastica però io non ho scudo e questo è il problema e sono anche da solo otto versus cosi abbiamo anche chillato i nostri amici abbiamo chillato i nostri amici siamo dei mostri ma manco io in realtà secondo me sono stati gli altri gli altri maledetti sì ma non è che io io ci abbia tutta tutta sta mira con questo cecchino per di più la cosa mi puzza di imboscata guarda da da come tra i ardano ora non mi lo sapevo ho sentito spari lo sapevo che ecco lì lo sapevo ma il tizio che vi ha chillato è ancora vivo preferisco non intracciarli preferisco che loro finiscano la fight ah tanto sono eh sono vabbè sono caduto giù no perché siamo ancora in no ah quale chi va bene raga abbiamo finito con le partite di oggi spero che vi siano piaciute e questa mi è piaciuta moltissimo perché abbiamo timmato e almeno quello visto in un gioco che ormai è diventato super toxic e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi bella ragazzi